Buongiorno a tutti, nel video di oggi parleremo di assistenza medica sanitaria, delle assicurazioni sanitarie quando si va in viaggio o quando si vive all'estero. Servono? Rimanete con noi! Buongiorno a tutti, benvenuti a Vita, Living Abroad. Nel video di oggi parleremo di assicurazioni sanitarie. Quando andate in viaggio o quando vivete all'estero, servono? Vediamo! Sapete benissimo che quando prenotate un viaggio c'è sempre la richiesta, che sia online, che sia tramite agenzie di viaggio, volete fare l'assicurazione medica e normalmente ci si chiede se questa serva o meno. Perché comunque i prezzi variano abbastanza. Si può parlare benissimo di 100, 110, 120 euro, anche solo per due settimane. E chissà quante volte ci saremo chiesti, ma non è mai successo niente, perché dovrei spendere questi soldi? Ma no, dai, rispariamoci questi soldi e magari usiamoli per farci delle escursioni che dovremo poi pagare in loco. Guardate, assolutamente sconsigliato. Dovete sapere che in moltissimi paesi le spese mediche sono molto ma molto care. Si parla non solo di centinaia di dollari o di euro, ma addirittura di migliaia. Quindi, prima di non prendervi un'assicurazione medica, pensateci molto bene, perché se mai doveste andare negli Stati Uniti o in Giappone, non avendo un'assicurazione sanitaria, e mai dovesse succedervi qualcosa, incidente di macchina, di pullman, e doveste mai finire in ospedale, cominciate a pensare che magari solo un'anestesia potrebbe costarvi anche mille dollari, 700 euro. Potreste incorrere in spese anche di 10.000 dollari, di 10.000 euro. E per cosa? E se non avete fatto queste assicurazioni, lì sarebbero dolori. Le assicurazioni sanitarie, ovviamente, per quelle di viaggio, sono diverse le une dall'altra. È molto importante che voi capiate che cosa state pagando, quali siano le clausole, dove queste funzioni non possono essere usate. se dovete essere voi prima a dare i soldi, se ne avete bisogno, quindi se avete una credit card, una carta di credito, swipe, quindi se dovete usarla prima, e poi l'assicurazione vi rimborserà dopo, oppure se è un'assicurazione che vi dà accesso diretto a spese mediche, cioè magari è l'assicurazione stessa che paga subito, fornendo dei determinati numeri all'ospedale in cui siete. Quindi dovete capire molto bene, prima di andare, quando comprate un'assicurazione medica, leggetelo. So che è noioso, che ci sono moltissime clausole, ma in realtà leggetela. Visto che già state spendendo dei soldi, almeno cercate di capire come funzioni. Consiglierei di andare per le principali, senza fare nomi, ma ci sono quelle due o tre marche, brand principali, che sono quelle più, che vanno di più, e ovviamente non guasterebbe fare una piccola ricerca su Google, e scrivete quell'assicurazione lì, reviews, e gente che ha avuto delle esperienze, e magari potete capire qualcosa, imparare un attimino come funziona. Aggiungiamo un altro punto. Un conto è magari se viaggiate all'interno dell'Unione Europea, un conto è se andate al di fuori. Quindi anche nell'Unione Europea, guardate, viaggiare in Olanda, o in Francia, o dovunque, siete coperti, ci sono degli agreements tra gli stati, siete coperti con la vostra tessera sanitaria, normale italiana, come funziona, doveste avere un incidente, o avere un'emergenza, informatemi un minimo, dieci minuti, ma almeno leggete un attimo per diversi stati, cosa dovreste aspettarvi. Quando uscite dall'Europa, lì le cose si diventano ancora più interessanti, una volta che sapete in che stato, o in che stati andate, dovete capire come funziona, se ci siano degli agreements tra l'Italia e questo paese. Quando parliamo di abitare in uno stato nuovo, dobbiamo capire lo stato in cui siamo, come funzioni, come si faccia l'equivalente della tessera sanitaria. In Australia, dipende con che visto venite, se venite con un visto vacanza, dovreste essere coperti per emergenze sanitarie da un agreement che c'è tra Australia e Italia, dovreste essere coperti per, mi sembra, almeno sei mesi. Però, sapete una cosa, ci sono le clausole, non è che dico, oh vado in Australia, tanto sono coperto per sei mesi. Sì, è vero, se siete in ospedale, vi stanno facendo un'operazione, o c'è qualche emergenza, non dovete pagare, ma sappiate che ci sono delle gabole. Per esempio, la Medicare, che è il sistema, è l'equivalente della tessera sanitaria italiana, la Medicare è quella per l'Australia, copre i cittadini per cose mediche, servizi medici, per consulenze dai dottori di base, però, se mai aveste bisogno di un'ambulanza, la Medicare non copre. Quindi, anche se voi siete in vacanza, dall'Italia, in Australia, e quindi siete coperti per almeno sei mesi, o anche se siete dei working holiday visa, che sono al di sotto, ricadono sotto questi sei mesi di Medicare, sapete solo che, se avete un'emergenza, l'ambulanza vi viene a caricare, non è coperta dal sistema sanitario nazionale, e quindi dovete pagarla. Una corsetta da 5-10 minuti sull'ambulanza, sono 700-800 dollari, ok? Pensate, un dollaro australiano, sono 60 centesimi circa di euro, quindi vuol dire con 500 euro, magari ci prendiamo un Uber, se stiamo male, così risparmiamo centinaia di euro. Quindi, è per quello che la maggior parte dei cittadini australiani, si fa un'assicurazione medica privata, che possa coprire cose tipo, trasporto in ambulanza. Sappiate solo bene, non date niente per scontato, perché poi quando arrivate, che le cose succedono, arrivano le mazzate, cominciate a mangiare il portafoglio, e veramente, sono delle botte da centinaia, migliaia di euro. Ovviamente dipende molto dai visti in cui andate, o vi spostate per andare a abitare nei nuovi paesi, importantissimo, prima ancora di andare là, e capire come il sistema sanitario funziona, di che cosa avete bisogno, di quanto possano costare assicurazioni private, e di quale assicurazioni private siano quelle più suggerite. Se vi fate la domanda, l'assicurazione serve, fatela. Nel dubbio tra sì e no, sì. Quando la fate, informatevi bene, leggete, guardate le clausole, studiatele, così che non viate delle brutte sorprese, e vi possiate godere il viaggio, tranquilli, e senza questo genere di problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, come al solito, subscribe, notifications, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona giornata. Ciao.